E bel demici! Un saluto da altri 1999 del P. Siamo qui oggi con un nuovo video, con un nuovo giocatore da creare che molti di voi mi avete chiesto e ovviamente come si legge dal nome lo conoscete tutti, ovvero parlo di Marco Tuminello che è impresso da Roma al Crotone. Prima però di crearlo vi chiedo di lasciare un bel like, di commentare, di iscrivervi al canale, di condividere, di raggiungere almeno 35-40 like per Tuminello, ovviamente cifre bassissime che però bisogna raggiungere per l'uscita di un prossimo video. Continuate a consigliarmi i giocatori da creare, piano piano insomma ve li porterò, adesso abbiate un po' di pazienza, poi tra una settimana inizierà anche la scuola, quindi dopo sarà ancora più faticoso per me portarveli, però mi impegnerò in questi ultimi giorni affinché possiate avere maggiori giocatori a vostra disposizione. Consigliatemi altre FIFA 18 Prediction, per esempio qualche altra amichevole ignorante dopo Bari-Barcellona oppure altre amichevole che vi piacerebbe vedere con le formazioni del 2017-2018 e io poi farò la telecronaca e il video, ovviamente ritagliati perché non posso portarvi a partita lunga 20 minuti, ritaglierò i pezzi più importanti e poi ve li porterò. Oppure altre FIFA Prediction, per esempio ditemi se vi interessassero nuovi video sugli stadi di vari campionati, tranne Inghilterra perché lì hanno tutti gli stadi ufficiali, però come ho già fatto per l'Italia potrei portarvi magari quelli spagnoli, quelli francesi o quelli tedeschi, insomma ditemi voi e ve li porterò. Cucca ragazzi, bando di chiacchiere, passiamo alla creazione di Marco Tuminello. Allora, nome è Marco, cognome Tuminello, Tuminello, Italia Crotone, attaccante, centrale, maglia 32, piede sinistro. E' nato il 6 novembre del 1998, passiamo all'aspetto, 186 cm, 74 kg normale, passiamo alla carnagione, mettiamo la seconda. Capelli, stelle lunghezze, visto che insomma a volte ce li ha avuti anche rasati, insomma decidete voi se mettete i rilasati oppure andare su corti e poi scegliere tagliati corti, quelli che poi li avrebbe da una parte. Colore i capelli marroni ovviamente, stile barba, mettiamo barba, colore barba marrone. Sopracciglia, posizione sopracciglia alte e indentro, forma sopracciglia allargate e spesse. Occhi, taglio degli occhi distanti e grandi. Detaglio Occhi 1, normale e indentro. Detaglio Occhi 2, aperta e stretta. Flore e Occhi 2, verde, verdogno insomma, azzurrino. Orecchie, e scusate ragazzi qui è pareto tutto, lasciamo stare. Orecchie, posizione orecchie in dentro. Tipo di orecchie, lobo, sì. Naso, posizione naso, largo, basso, largo e alto. Tipo di naso, normale. Profilo naso, fuori, piccola. Narici, alte e allargate. Dai o narici, allargate. Guance, posizione zigomi, bassi e piatti. Tipo di guancia, piene. Bocca, posizione bocca giù, sopra e in fuori. Labbra, ricurvo spesso, spesso. Stile labbra, su. Mascella, allargate, basse, definita. Mento, squadrato, in fuori. Questo, ragazzi, per quanto riguarda l'aspetto di Marco Tuminello. E già so, ragazzi, quello che preferite voi, ve l'ho detto, poi vabbè, maniche corte, ci sta. Passiamo alle categorie. Attributi. Attacco, cross 50, finalizzazione 70, test 65, passaggio corto 65, tiro al volo 60, piede debole 3. Difesa, marcatura 20, contrasto in piedi 30, scivolata 25. Abilità, dribbling 65, effetto 45, punizione 40, passaggio lungo 40, controllo palla 70. Potenza, potenza tiro 65, elevazione a 70, resistenza 65, forza 75, tiro dalla distanza 65. Movimento, acceleratore 65, scatto 70, agilità 65, relatività 70, equilibrio 50. Mentalità, aggressività 30, abilità tattica 40, posizione in attacco 70, visione 60, rigore 65. Infine, portiere, potete lasciare 20, 10, 10, 10 e 10. Quindi, ragazzi, il video termina qua, spero che vi sia piaciuto, lasciate un bel like, commentate, condividete, raggiungiamo almeno i 30 like, 35 like, anche 40, per Marco Tuminello, continuate che siamo giocatori, arriveranno tanti giovani, giocatori che vi avete chiesto, per esempio, Sanchez Gioia, della Milan, anche Larsen, dello stesso Milan, e altri tanti giocatori, però vi chiedo sempre di pazientare, di avere pazienza, perché comunque, ci vuole del tempo, i video devono anche caricare, insomma, abbiate pazienza, e, insomma, nei prossimi giorni, cerco di portarvene il più possibile. Quindi, ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio, un saluto da Bert Matri, 1999 Delpi, con me, Marco Tuminello, ci vediamo, al prossimo video. Ciao, ragazzi!